Accanto a me il consigliere Arena, stiamo parlando del depuratore, il consiglio comunale aperto sul depuratore. Sono uscite fuori molte verità, molte sfaccettature. La vasca di ossidazione che non funziona, i refri che arrivano che non sono adatti al depuratore. La verità sicuramente sta nel mezzo, ma qual è? Credo che finalmente si sta facendo chiarezza, che poi era quello che chiedeva tutta la città di Mazzara, sul cattivo funzionamento di questo depuratore fin dall'inizio del suo inizio di lavorazione. Purtroppo credo che sia stata fatta una cattiva comunicazione anche da parte, principalmente da parte dell'amministrazione, quando per motivi fortuiti, perché ricordiamo che tutte queste indagini sono nate nel momento in cui c'è stata una rottura del cosiddetto pennellone, con intervento da parte degli organi competenti, qual è la capitolina di Porto e l'ARPA. Da lì comincia una serie di richieste da parte dei cittadini, da parte di noi Consigliere Comunale, per capire lo stato dell'arte del cosiddetto depuratore. A tutto ciò si aggiunge che proprio in quel periodo cominciano i problemi legati ai cattivi odori che vengono immessi in aria da parte del depuratore stesso. Per qualche motivo che non riesco ancora a capire, ma ora piano piano sto riuscendo a capire, da parte dell'amministrazione veniva come diminuito questo cattivo funzionamento del depuratore e si è dato responsabilità di tutta questa situazione a scarichi da parte di aziende che con superficialità scaricavano nella nuova conduttura tutti gli scarichi industriali. Tutto questo viene già visto e descritto dalle prime rilievi fatti dall'ARPA e anche dalla ditta digestione del depuratore stesso che dalle analisi di conducibilità e dagli esami che vengono effettuati rilieva che ci sono delle sostanze diverse nelle fognature. Ma quello che mi sto chiedendo e ci chiediamo tutti e ora finalmente forse riusciamo a capire era che in altre parti del comune vicini tutti questi problemi di odori non avvengono e se fin dall'inizio si riesce a trovare una causa, come mai fin a settembre-ottobre ancora non si riesce a trovare quelli che hanno causato queste disfunzioni? Perché il gestore che cosa dice? Se all'inizio, all'entrata del reflui ci sono questi materiali il depuratore di fatto non funziona, cioè non riesce a svolgere la sua funzione tant'è che dai risultati risultano che la fuoriuscita del refluio a livello del pennellone non sono completamente depurate le acque. Altra cosa stiamo chiedendo e chiediamo tanto tempo quanto tempo occorre per avere risultati di questi analisi perché le analisi, se è vero che sono state effettuate a luglio, come mai i risultati vengono dati ad ottobre? Credo che sia un lasso di tempo talmente elevato che per altri tipi di eventi dovrebbero essere magari accelerati. Ora stiamo riuscendo a capire che il depuratore non è ancora a piena funzionalità che ci sono due tipi, cioè almeno un tipo di vasca che ancora non funziona che è quello dell'ossidazione, che di fatto, riesco a capire per quello che tecnicamente riesco a capire è quello che fa diminuire di tanto gli odori quindi credo che lasciando perdere le colpe di chi sono, di chi non sono ma si deve attivare per far sì che tanto chi abita in quelle zone non dovrà avere perché secondo me il problema dei cosiddetti doranti sono pagliativi che non hanno un futuro perché quando cominciano le acque con le piogge che cosa si fa? Si otturano, non funziona quindi bisogna andare a capire esattamente quali sono le risposte che dobbiamo dare a questi cittadini poi se ci saranno dei problemi, ci saranno sicuramente problemi di altra natura per chi di chi è la coppa, di chi non è la coppa questo è un problema che riguarda altre istituzioni un dato certo però lo dobbiamo pur dire che il depuratore è stato fatto iniziare senza avere le normali autorizzazioni e io mi chiedo quale cittadino, quale abitante di questa città senza avere le normali autorizzazioni riesce ad aprire un'attività commerciale da qualsiasi tipo di attività quindi anche lì forse c'è stata un'accelerazione da parte dell'amministrazione che volente o nolente l'ha effettuata ora ci troviamo davanti a dei problemi che si devono risolvere io non sono quello che dobbiamo fare critica a tutti per forza ma dobbiamo dare risposta a questi cittadini entro poco termine per far sì che loro possano stare nelle loro abitazioni tranquilli che noi cittadini abbiamo la sicurezza che quei liquidi vengono depurate a regola d'arte ecco allora le criticità che ci sono emersi durante il dibattito spero che si risolva finalmente perché avere un depuratore è segno di civiltà di risposta che si donna a tutta la città ora ognuno si prende le proprie responsabilità qualcuno ha sbagliato speriamo che si metta come dire dare una risposta a queste responsabilità e che spero a più presto nessuno continui a lamentarsi del cattivo funzionamento diciamo ora sicuramente del depuratore il depuratore è stato messo in funzione senza avere le autorizzazioni agli scarichi che è arrivata a settembre il depuratore è stato messo in funzione a marzo lei ha definito questa inaugurazione un'inaugurazione elettorale forse c'è del vero poi d'altronde d'altra parte abbiamo visto anche Foggia che ha detto non sono andata all'inaugurazione perché sentivo cattivi odori già allora cosa bisogna pensare sotto questo punto di vista? che durante la campagna elettorale è normale che ognuno metta in risalto quello che ha fatto lì avrei anche lì da far dire qualche cosa perché le uniche grosse strutture che si sono messe in funzione nella città di Mazzara sono strutture che provengono da lontano perché anche il depuratore non è che dobbiamo dimenticare non è che l'ha consegnato il sindaco Cristal ma sono lavori che sono cominciati nella sindacatura precedente così come è successo per la sovraelevata io spero che il prossimo sindaco della città metta in funzione tutte quelle grosse opere che a tuttora non vediamo che sono state messe in candiere da questa amministrazione e che un altro sindaco dirà sono stato bravo ad effettuare la nascita di un ponte sul fiume Mazzaro che sono stato bravo ad aver fatto una grossa area nella città dell'Aero lo sport non lo so, prendere meriti di altre cose è una cattiva abitura nostra politica io queste cose le voglio sempre rimarcare poi è vero che ci troviamo in una difficoltà amministrativa ma non c'è bisogno di dire sono bravo perché ho aperto in quel momento secondo me si doveva anche aspettare che tutti l'iter burocratico venisse messo in itinere e quando c'erano tutte le autorizzazioni si dava apertura a questo depuratore lì qualcuno ha fatto una scelta diversa sicuramente in quel periodo nessuno può dar dimmi che non è stata una scelta di proprio elettorale grazie